Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Numero 100! Ultimo numero della collezione Ironman in scala 1 a 3, edizione De Agostini, Marvel Studios, altezza 60 centimetri, una splendida armatura. Però prima di procedere al montaggio di questo numero 100, guardate un po' cosa c'è qua. Non riesco a prenderlo, a riprenderlo tutto, tanto che è grande. Un attimo mi sposto ancora più indietro. Che spettacolo! Che spettacolo! Guardate che spettacolo! Sono a oltre mezzo metro dal cubo box. Questa è la posizione secondo me più bella. Qua sotto, come potete vedere, in attesa poi, quando lo presenterò nella vetrina, di mettere delle parti sotto per evitare che il metallo possa rovinarsi su questa base qui e rovinare anche la base. La stessa cosa qua. Mentre invece, come avete già visto, almeno per chi mi segue, nei piedini io ho adottato questo. Ho messo del biadesivo con del sughero, ecco qua. Così, oltre ad avere attrito, non è neanche così brutto da vedere esteticamente. Non mettete adesivi, come ci ha detto la De Agostini, ragazzi, mi raccomando. Fate quello che volete, ma non mettete delle colle sotto. Bene, poi successivamente al video del numero 100, quello che seguirà, non appena metterò in pausa questo, per riporre momentaneamente questa splendida armatura e procedere al montaggio del numero 100, vi farò vedere, appunto, un video dove andremo a mettere tutte le posizioni possibili, che in questo caso, per questa armatura, sono ben cinque posizioni. Va bene, ragazzi. Cosa devo dirvi? È ovvio che chi non ha fatto la base premium non potrà mai metterla in questa posizione, salvo che, per carità, lo appoggi direttamente sul piano d'appoggio senza usufruire della base che vi hanno dato, perché, se non sbaglio, è 27,5 centimetri. Questo è 52 e, guardate, siamo al limite, perché l'armatura è veramente gigantesca e c'è chi dice che è costata cara, c'è chi dice che è una specie di marionetta, non mi risulta. Io dove la metto sta. Chi mi segue si è reso conto che con qualche accorgimento, qualche accorgimento, l'armatura è più che stabile. Vi faccio vedere una cosa, aspettate. Guardate, il pugno adesso non tocca, come potete vedere, non mi serve il pugno per farla stare su. Vedete? Sta su da sola. Perché? Perché ho fatto tutti quegli interventi che mi sono permesso di dirvi, interventi che sono fattibili da chiunque desideri farli, tutto lì. Giusto per non arrivare alla fine e dire non è possibile farla stare su perché dove la metti non devi più toccarla. È ovvio che neanche io ci giocherò, però io dove la metto sta e sono sicuro che anche la vostra, dove la mettete e come la mettete sta. Bene ragazzi, mentre io adesso metto il video in pausa e procederò al montaggio del numero 100, se avete piacere, cos'è che potete fare? Iscrivervi al canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ci vediamo dopo ragazzi. Vediamo un po' se riesco a prenderla tutta. Sì. Ok. Ed eccoci pronti al montaggio del numero 100. Vi servirà questo pezzo. Ok. Andiamo subito a vedere. Questo fascicolo è il più completo dall'inizio della collezione perché ci fa vedere anche le varie posizioni che possiamo far assumere alla nostra armatura e all'interno, come anche nel numero precedente, troviamo la possibilità di continuare questa collezione con l'armatura danneggiata. 20 numeri in più. Di questo ne avevamo già parlato. Andiamo avanti. 20 numeri in più. Ed eccoci qua. All'interno del numero 100, oltre ai pezzi che adesso andremo a vedere, che ci permettono di completare l'assemblaggio per poter poi assumere la posizione C e D, ci hanno anche fornito della borchia la destra. Vi ricordate che quella che si era stata fornita precedentemente aveva la mancanza di questo cerchio esterno. Beh, dai, hanno commesso un errore ma nulla si può dire. Ce l'hanno fatta avere ovviamente gratuitamente, quindi bravi alla D'Agostini. Sbagliare possono tutti, però non tutti poi pongono rimedio e loro lo hanno fatto. Grazie. Via questo. Andiamo a vedere cosa abbiamo all'interno di questo numero 100. Abbiamo tre serie di viti, tutte e tre vanno avvitate esclusivamente nella plastica, una KP, QP ed LP. Abbiamo quattro molle, due per ogni pulsante. Abbiamo i due pezzi, tutto in plastica, va benissimo, e i pulsanti. Prima cosa che dovete fare come consiglio. Controllate subito se il pezzo vi si aggancia perfettamente sotto. È inutile che montate tutto e poi dite non si aggancia. Dovete farlo prima questo lavoro. Quindi inserite. Sentite che sgancio, che aggancio secco che ha questa armatura, perché vi ho spiegato come poterlo ottenere nei video precedenti, dove giro la molla al contrario, questa di spinta all'interno. Vi ricordate? Proviamo anche l'altro. Ecco qua. Perfetto. Se già vi si sgancia così, ma è inutile che andate avanti a montare. Dovete risolvere il problema. Ok. Usiamo di nuovo questo. E andiamo avanti. Allora, per il montaggio ci sono tante foto e io ho dato già un'occhiata, ma non mi serve guardarle perché è molto semplice. In sintesi, la prima cosa che faccio, a parte ovviamente guardare le viti che ci vanno, andiamo a mettere le Kp che sono qui, queste, andiamo a metterle nei sei buchi fori dedicati. Quindi mi creo il filetto. Adesso vi faccio vedere il primo. Mettete il dito sotto, altrimenti rischiate di rompere la plastica. E lo avvito tutto fino in fondo e svito la vite. Ripeto la stessa operazione per questo foro, questo foro e questi altri tre fori qua. Uno, due e tre. Poi ripeterò la stessa cosa in questi altri sei fori. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Quindi io vado a crearmi con la vite Kp senza assolutamente mettere nessun tipo di lubrificante i sei più sei filetti, quindi dodici. Ci vediamo dopo. A questo punto, una volta che ci siamo creati tutti i filetti, dove andremo a mettere poi le sei viti per ogni bacino, le sei viti Kp, prendiamo una vite Qp, e andiamo a crearci il filetto qua. Ve lo consiglio perché anche se la plastica è una plastica dolce, quindi facile da avvitare, potreste incontrare un po' di difficoltà una volta inserito questo all'interno. vi faccio vedere, ecco qui, questo. Quindi io vi consiglio di avvitare fino a che non sarà arrivato in chiusura un pezzo con l'altro e poi togliere di nuovo la vite. Vedete? Perfetto. A questo punto dobbiamo andare a fissare con le sei viti Kp questo pezzo su questo bacino che ci permetterà di avere una posizione, e questo altro pezzo sull'altra posizione. Andiamo ad inserire il pulsante di aggancio-sgancio all'interno, controllate che sia libero di muoversi, prendiamo una molla e la inseriamo qui, l'altra molla, andiamo ad inserirla qui. Fate attenzione a non rompere il perno che deve entrare nel foro dedicato, non abbiate fretta di montare, controllate tutto, ecco qua. Il pulsante funziona però, un attimo, lo vedo un po' basso. Proviamo a montare l'altro così e vediamo se anche l'altro è basso. Il pezzo lo mettiamo dopo quello che è basculante. E' solo per controllare il pulsante, se ha la stessa altezza, si più o meno è la stessa altezza. Non serve neanche allungare le molle perché non risolveremo nulla in quanto qui abbiamo la battuta. Vedete? Quindi è contro, ma non è a filo. Un attimo, vediamo un po'. Allunghiamo un po' la molla, non tanto, così va già bene e vedrete che adesso sarà decisamente meglio perché il pulsante tornerà. Più in su. Andiamo a provare. Decisamente. Vedete? Premo e lui torna più su. Va bene. Faccio la stessa cosa con l'altro così cerco di fare i video meno lunghi possibile e ci vediamo dopo. Un attimo solo perché vi faccio vedere anche l'altro. Guardate, vedete? Io è tutto contro qua, tutto contro. Qui è schiacciato tutto. Eppure, come potete vedere, qui abbiamo un bel gradino perché guardiamolo da sotto e ci accorgiamo che la spinta della molla non è tale da permettere a questo pezzo di andare in battuta. Guardate sopra. Vedete? Quindi allunghiamo la molla. Come vi ho fatto vedere prima, la stendiamo un po' finché vediamo che questo rimane così. Ecco quando vi dico i particolari, quando montate qualcosa, non montatela così. Guardate che tutto funzioni bene. Alla fine il risultato lo ottenete. E ottenete un risultato non mediocre o da accontentarvi, ma soddisfacente. Come quello che ho ottenuto in tutte le tre armature e chi mi segue lo sa che ho costruito. Va bene? Ci vediamo dopo. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. Una volta che le avete allungate, controllate che abbiano la stessa lunghezza, quantomeno. Altrimenti una spingerà più o meno dell'altra. Va bene? Eccoci nuovamente qua. Come potete vedere c'è una bella differenza tra prima e dopo, ma la vedremo poi alla fine del montaggio. A questo punto andiamo ad inserire, almeno io perché non l'ho ancora inserito, questo pezzo. Perfetto. Prendiamo la vite che è la QP e andiamo ad avvitarla qua. Fate attenzione perché dovete vedere che all'interno la plastica sia libera, altrimenti non l'avete inserito correttamente perché deve attraversare il foro di questo pezzo qui. Quando avvitate fate attenzione sempre a questo che non lo rompete, quindi appoggiate le dita nei punti saldi. Questo non deve rimanervi con lo spazio. A molti probabilmente sarà rimasto così. Ecco perché vi ho detto filettate anche questa vite perché altrimenti rischiate di non riuscire ad arrivare in fondo. Fatto questo, prendiamo semplicemente il pezzo, in questa maniera, se non è questo sarà l'altro, lo fate ruotare ed è proprio il suo. E andate a mettere tre viti KV da una parte e tre viti dall'altra. Le puntiamo prima tutte e le eviteremo alla fine. No, questa è troppo stretta, un po' meno. Vi faccio vedere tutti i passaggi solo in questo pezzo, poi il secondo pezzo lo monterò con il video in pausa e ci vediamo poi alla fine di tutto. Allora, qua abbiamo finito, adesso attenzione, guardate qui, stringete solo da una parte o dall'altra, ok? Fissate solo questo pezzo a un pezzo che decidete voi, o uno o l'altro, l'importante è che evitate solo tre viti. Io avviterò queste senza avvitare forte le altre, queste invece le avvito non troppo forte perché devo vedere una cosa, guardate. Andiamo a controllare la chiusura, questa, se più o meno va bene, vedete? La possiamo regolare da come avviteremo il pezzo sopra. Guardate questo pezzo qui, vedete? Vediamo se così ve lo faccio vedere meglio. Ecco, guardate, se io avvito così questo mi sta chiuso, se io avvito così mi va sopra. Quindi vado a stringermi queste tre viti solo da un lato e ovvio tenete presente che questi qui sono pezzi basculanti che alla fine non rimarranno mai chiusi, per cui in realtà poi la chiusura perfetta non ha neanche senso perché quando userete questo bacino rimarrà su. Comunque rimane un po' aperto. Ok? Queste qua, una, due e tre, le uso come registro, quindi mi accerto che siano lente e lo sono. Torno qui e cerco di vedere quello che posso fare. Però agiro solo su queste tre qui, queste non le tocco più. Sto adesso lavorando spostando avanti e indietro questo pezzo qui che si può muovere. in funzione di quello che io faccio, questo va a destra o a sinistra, a destra o a sinistra. Voi dovete guardare, quando vedete che avete corretto l'errore avvitate. Eccolo qua, vedete? Avvito così. Perfetto. Così va bene. Adesso, prima di mettere in pausa e andarmi a montare quest'altro, vedete il pulsante, guardate. Vedete la differenza? Con la spinta della molla che ho allungato, che è diventata ovviamente maggiore come spinta, mi ha portato a filo il pulsante che prima era basso. Adesso andiamo a prendere un momento questo, perché è la prova che dovete fare anche voi. E andiamo ad agganciarlo. Proviamo. Deve agganciarsi. Se non si aggancia, vi dovete fermare e intervenire e cercare di capire perché non si aggancia. Proviamo. Sentito? Perfetto. Andiamo a sganciarlo. Dov'è il pulsante che non lo vedo? Eccolo qua. Perfetto. Si è acceso il reattore arc. Questo è perché, come sapete, io non ho inserito le parti ancora in maniera definitiva, quelle che coprono le viti, perché possono sempre essere necessari degli interventi. ecco perché ho sempre detto, ragazzi, non mettete i pezzi, i tappi. Adesso qua, per carità, ho già finito tutto, quindi poi andrò sicuramente a stringere. Va bene. Adesso metto in pausa il video, monto quest'altro e ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Perfetto ragazzi, il montaggio del numero 100 è terminato. Perfetto. 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 Il bacino che sceglieremo in funzione di quello che sarà la posizione che vorremmo far ottenere alla nostra armatura. Andremo poi ad avvitarne una qui e una qui sullo snodo delle gambe. Quindi questo servirà per agganciare e le due viti per bloccare quel gioco che avete adesso quando la presentate sopra. Vedete? Vi ricordate all'inizio com'era? Se avessimo montato la molla così, questo rimaneva basso. È solo un fatto estetico, la funzionalità l'aveva comunque, però è molto più carino così. Quindi trovo che sia molto più giusto che lui sia a filo e continui l'armatura senza che invece lasciare la posizione così che aveva prima. Bene. I due pezzi sono terminati. Adesso cercherò di presentare subito il nuovo video per farvi vedere tutte le posizioni e cosa usare per ottenerle. Vi farò anche vedere, anche se è spiegato benissimo, nel fascicolo numero 100 e il 98. Sono spiegate perfettamente bene come poter appunto far assumere alla nostra armatura quelle posizioni che decideremo di scegliere. però non è spiegato un granché bene il passaggio, cioè come procedere a far assumere senza rischiare di danneggiare la nostra armatura le posizioni che noi decideremo di far assumere. Un'altra cosa è un fatto semplicemente estetico e nulla di che, volevo solo farvi notare che questi due pezzi argentati, che sono facilmente rimovibili, basta fare così, vedete? Questa è la R perché l'armatura, ve l'ho detto, va vista di schiena. In questo caso, se la guardate davanti, troverete che la destra è questa, ma dovete vederla da dietro, cioè fate sempre riferimento alla vostra mano destra. E infatti la R va montata qui. Però quello che dovete fare, attenzione, è come direzionate la linea nera. La linea nera deve continuare, aspettate che cerco di mettere l'immagine a fuoco, ecco qua, la linea nera deve continuare la linea rossa dell'armatura. Quindi linea armatura, linea nera, linea armatura. Vedete? Tutto qui. Una piccolezza che ho voluto dirvi. Stavo pensando se potevo aggiungere qualcos'altro a questo video, ma credo di aver detto anche tutto. E mi sarò mica dimenticato di dirvi di scrivervi? Dai ragazzi, abbiate pazienza. Ci sono delle pubblicità, ma vogliatemi bene, dai. Se volete bene a Michele, guardate le pubblicità. Perché saranno quelle che forse riusciranno a farmi continuare ad impegnarmi in questo canale. Perché è bello, è bellissimo. Però c'è veramente ma tanto, tanto da fare. Non è finito qui al filmato. Poi ci sarà la correzione, perché ci tengo anche a rendervi partecipi. Il video va corretto su Google, perché la forma di italiano che usa poi Google, perché ognuno di noi parla più velocemente o meno, si mangia le parole tipo io o meno. Quindi Google farà degli strafalcioni. Nella ragione in cui un italiano ascolta, è ovvio che comprende. Ma se uno straniero mette i sottotitoli e nella frase che io articolo viene scorretta, invece di dire razzo viene pazzo, e anche qualcos'altro, capirete che io devo andare a correggere. Quindi ecco, un video di mezz'ora ci vogliono circa quattro ore, solo a correggerlo. E poi mezz'ora mettere circa 30 sottotitoli. Quindi ecco, questo miagolio che avete sentito del mio amore, il mio gattino Michelangelo che ha circa due anni. Un gattino mediterraneo, europeo. Io lo chiamo mediterraneo perché è proprio come si può dire... Uffa, quando non mi vengono le parole mi vieno nervoso. Verace ecco, ho dovuto mettere il video in pausa perché non mi veniva in mente questa parola. Verace. Va bene. Ragazzi, grazie di tutto. Se avete piacere date anche un'occhiata alla playlist dove ci sono altre costruzioni, altre collezioni. Sto attendendo il numero 3, 4 e 5 di Robocop. Poi mi arriverà anche la Ford Gran Torino di Staschiacce, la Citroen 2 CV Charleston e la Lancia Stratos Livreal Italia del meraviglioso pilota Sandro Munari e il suo splendido navigatore Silvio Maiga. Bene ragazzi, è tutto. Vi ringrazio del vostro tempo. Scusatemi se tante volte rispondo in ritardo ai vostri messaggi, ma vi dico la verità, non ce la faccio fare tutto. Sono contento che stiamo socializzando, che voi nella comunità scrivete, mi date consigli, però mi viene molto difficile riuscire a rispondere a tutti. Quindi ecco, per eventuali ritardi vi chiedo scusa. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari e più cari e arrivederci al prossimo video. Ciao. Ciao.